Tempi ancora lunghi e soprattutto non definiti per i lavori di allungamento della pista del Gino Lisa. Le dichiarazioni dell'assessore regionale Nunziante in merito al reperimento del 5% del finanziamento hanno scatenato la reazione dell'opposizione di Via Capruzzi. In particolare Gian Diego Gatta ricorda a Nunziante la disponibilità di un gruppo imprenditoriale foggiano disposto a finanziare il 5% dell'opera. Gatta dice che perdere altro tempo, un lusso che non ci si può permettere, sarebbe uno schiaffo alla Capitanata. Gatta ritiene l'aeroporto Gino Lisa vitale per lo sviluppo della Capitanata. La strada continua ad essere insalita oltre il tollerabile, dice l'esponente di Forza Italia, e a pagarne il prezzo è un territorio che dal Gargano ai Monti Dauni raggiunge diversi milioni di presenze turistiche l'anno e merita di avere una efficiente stazione aeroportuale. Un aeroporto funzionante e operativo, aggiunge, sarebbe un impulso determinante ed un supporto indispensabile per il mercato del turismo, che anche quest'anno in Capitanata ha confermato un trend straordinario.